Sono almeno cinque i morti nell'incidente tra un treno e un autobus avvenuto a Ottawa. Imprecisato il numero dei feriti, alcuni dei quali si troverebbero in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto all'ora di punta quando nella capitale federale del Canada erano da poco passate le 9.30 della mattina. Secondo le informazioni raccolte tra autorità e testimoni, le vittime sarebbero tutte passeggeri dell'autobus a due piani e nessuna sul treno passeggeri. I due mezzi erano diretti rispettivamente verso il centro città e verso Toronto. L'incidente avviene mentre le due principali compagnie ferroviarie stanno rivedendo gli standard di sicurezza.